Ciao Miami, addio! Si torna in Italia L'allegria No, non è vero, siamo contenti perché io suonerò a Napoli domani, ci vediamo a Napoli amici Se vi chiedevate se anche Rovazzi mangia La risposta è sì Mangio tra l'altro il triplo delle persone normali Minchia, fai cagare, veramente Non so perché, non mi ingrazzo Sono vestito come DJ Snake in tour Niente, siamo in partenza Abbiamo scoperto che internet vada a paura qui in aereo Quindi faremo degli instagram stories in diretta e lanceremo delle attività Quindi la prima attività che propongo è andare sotto la bellissima foto di Fabio Che sembra Steve Jobs al computer e scrivergli che è un coglione Ok, sì, stiamo per mandare questa foto di Fabio È uno sconosciuto Prp usa, vai Adesso rifiuterà sicuramente Sì, rifiuterà un paio di volte però prima o poi accetterà L'abbiamo inviato, ragazzi Quindi qualcuno su quest'aereo ha ricevuto questa bellissima foto di Fabio Vediamo se scopriamo chi è Eccola dietro di noi Dove è chi è? Ed è arrivata La signora ci ha appena sgavato che i Rovazzi ci stavano facendo una foto mentre ci davano il migliorino As long as you don't want me on the picture Yeah Nove finger to Rovazzi Esatto Adesso avete un figlio Apriamo la rubrica Rovazzi in alta quota E mi stava dicendo che Rovazzi se fossi stata una donna Si sarebbe scopato per lo scopo No, non ho mai idea Smentita ufficiale Tutto ciò che avete Ma allora apriamo la rubrica cosa... se lei fosse stata una donna Ho appena mangiato delle verruche, non mi sento C'è il mio amico Nick che fa le foto dove mette sempre il pollicione Allora Rovazzi ha commentato la sua foto con un pollicione sulla foto col pollicione E io ho commentato con una foto del mio pollicione sul pollicione di Rovazzi che fa il pollicione al pollicione di Nick Mi sembra abbracciato che faceva mia nonna Adelaide e su qua c'è il casei Siamo arrivati a Francoforte E questo tunnel interminabile Passeremo la giornata qua Abbiamo appena atterrati e Rovazzi ci ha regalato una rosa Rosa way E beh Siccome niente il nuovo siglo di Rovazzi non è andato così bene E metteremo le rose nel rivolto Comunque volevamo dire a quell'inja che è gravata con il Blackberry che il Blackberry ti faceva sembrare un uomo d'affari nel 98 ragazzi Esatto L'inguardabilità dei pantaloni di Rovazzi è incredibile Napoli sto arrivando e farò ufficialmente il mio primo concerto in jetlag Yeah Tutti felicissimi Oh yeah C'è il signore davanti a noi con le crocs marroni Non scoperà proprio mai Oh yeah Oh yeah Sono appena arrivato a casa Sono appena arrivato a casa Leggermente provato dal viaggio Ehm Sono felicissimo Wow Dovete sapere che Da qualche tempo ho preso il 3DS E ho iniziato a giocare a Pokemon Infatti la mia ragazza mi invadia per questo E oggi è arrivato lui E per questo mi sono spariti 30 leggendari dal mio box Perché l'ho scambiato affatto Finalmente a Napoli amici ci vediamo questa sera Spacchiamo tutto Siamo in camerino Stasera concerto a Napoli Il camerino circense mi piace Mi sento in una strada del circo